Buongiorno a tutti, io sono Claudio Bellotti, sono direttore della rivista Rivoluzione e militante della tendenza marxista internazionale in Italia. Come tutti siamo naturalmente in queste settimane costretti a restare in casa, ma l'attività del nostro movimento e della nostra organizzazione naturalmente non può e non vuole fermarsi. E dunque siamo attivi innanzitutto attraverso tutti i nostri militanti che sono parte di quei lavoratori che ancora debbano lavorare, che dunque sono impegnati in prima fila per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori laddove è indispensabile lavorare e nella lotta per arrivare a un'effettiva chiusura di quelle attività non essenziali che tuttavia il governo e Confindustria continuano a insistere a mantenere. Non siamo dunque in quarantena e vogliamo, oltre a quest'azione sul campo che svolgiamo, vogliamo anche mantenere aperta la discussione politica, la riflessione politica e lo facciamo anche attraverso queste trasmissioni, questi video, faremo anche degli streaming per cercare di riflettere assieme su quanto sta avvenendo. Indubbiamente questa epidemia in cui ormai da diverse settimane siamo immersi ha messo in luce le contraddizioni della nostra società e del mondo in cui viviamo in maniera in maniera inedita, in maniera clamorosa, in maniera spietata, non ha mostrato niente di nuovo per la verità, ma tutto quello che ci fa vedere ce lo fa vedere portato in una condizione estrema e particolarmente chiara. Dunque noi non dobbiamo limitarci a proteggerci attraverso le quarantene o l'isolamento, ma dobbiamo mantenere appunto aperta la discussione e il confronto per trarre tutte le lezioni e tutti gli insegnamenti da quello che ci sta accadendo e che stiamo vivendo in prima persona. Si potrebbe dire che un po' proprio come una malattia colpisce in modo diverso un organismo sano da un organismo malato, e purtroppo lo stiamo vedendo anche in questi giorni, così anche colpisce in modo diverso una società sana da una società malata. Questa epidemia sta dimostrando precisamente i mali della nostra società, del nostro sistema economico e del nostro sistema politico. Tante cose naturalmente si sono già circolate, si stanno già denunciando in questi giorni, in primo luogo lo stato del sistema sanitario, che è la nostra prima difesa. Lo stato del sistema sanitario nel nostro Paese, i dati stanno circolando, ha subito da 30 anni un sistematico processo di indebolimento, di svuotamento, di taglio dei finanziamenti, di taglio del personale, si stimano le cifre, le avrete viste, si parlava di 56 mila medici mancanti, si parla di 37 miliardi di definanziamento alla sanità negli ultimi dieci anni, che sono stati condotti prevalentemente in nome delle politiche di austerità, che per la verità vengono da molto lontano, anche ben prima che si firmassero il patto di stabilità e gli altri trattati europei che hanno in qualche modo codificato questa politica. Mi sembra giusto però aggiungere che non sono solamente i tagli che hanno indebolito la sanità pubblica in Italia e non solamente. È stato proprio un cambiamento di obiettivo. La sanità è diventata, la salute è diventata una merce e dunque il problema non è solamente quanto si spende e si spende troppo poco e male spesso nel nostro paese, ma anche perché e come, quali sono gli obiettivi di questo sistema sanitario. E gli obiettivi sono diventati sempre di più, non quelli della salute, tutelare la salute pubblica generale, la salute della società, ma di promuovere e vendere una merce che si chiama appunto salute. E questo ha fatto entrare questa logica aziendalistica, dilagante, che ha trasformato gli ospedali in aziende, che ha fatto applicare ai servizi sanitari le stesse logiche d'impresa che per esempio hanno condotto ad accorpamenti, chiusure di strutture, chiusure di presidi sul territorio di ogni genere, non soltanto ospedali pronte soccorso, di un impoverimento di qualsiasi cultura di prevenzione e formazione alla salute, in nome invece dell'economia di scala che accentrando la vendita di questa merce massimizzano i profitti. E proprio oggi questa logica mostra fino a che punto è fallimentare e costringe lo stesso personale sanitario, in cui tutti si spellano naturalmente a tessere le lodi, ad applaudire in ogni modo, a una condizione drammatica di dover affrontare questa emergenza con un apparato, con una struttura non solo sottodimensionata, ma anche pensata per tutt'altre logiche, per tutt'altre esigenze. E certo non è un caso se nel prevalere della logica del profitto, della redditività, poi la sanità sia anche stata e sia terreno di periodici scandali, inchieste che con la regolarità anche queste dei mali di stagione si abbattono in una regione dopo l'altra, mostrando le brutture e la corruzione di questo sistema, che è stato anche molto danneggiato dalla regionalizzazione che ha creato, distrutto di fatto, la logica del servizio universale, gratuito e uguale per tutti, volto a tutelare la salute della società in generale e dell'intera popolazione. Tuttavia non possiamo soltanto guardare a questo lato del problema. La risposta che il governo italiano ha dato, ma per la verità quasi tutti i governi si muovono grossomodo nella stessa traccia, con qualche differenza, rispecchia sicuramente la debolezza di questo sistema, che è stata scaricata sull'insieme dei cittadini, prendendo una decisione che è la più debole di tutti, diciamo così, cioè quella di chiudersi tutti in casa perché è l'unico strumento che rimarrebbe, che rimane per tentare di rallentare il contagio e impedire il collasso generale del sistema sanitario, ma le decisioni del governo hanno anche rispecchiato altre logiche e altri interessi. Perché da un lato si è scaricato il costo economico e sociale e psicologico anche sulle famiglie di questa clausura, di questa quarantena o confinamento. È facile dire fatele seguire ai figli le lezioni da scuola, di scuola attraverso internet, è facile dire lavorate da casa, è facile dire non uscite se non uno a persona alla settimana per fare la spesa, quando poi questo si scontra con famiglie che magari in 50 metri quadri debbano prendersi cura di due figli o di una persona anziana, non tutti hanno una connessione, che perdono reddito, che perdono stipendio, che perdono possibilità di fare fronte a questa infinita catena di problemi che gli si scarica addosso. Massima severità su questo fronte, non puoi comprare i quaderni all'Esselunga, ma potrebbe esserci, scusate, al supermercato, che l'Esselunga non c'è in tutta Italia, ma può essere magari seguito da un drone perché verifica se hai portato il tuo cane oltre i 200 metri di distanza dal portone di casa e tuttavia questa severità e questo rigore sbandierato si ferma rispettoso ai cancelli delle aziende. E dunque milioni di persone, milioni di lavoratori e lavoratrici hanno continuato ad andare a lavorare in tutte queste settimane, non solamente quelli dei servizi essenziali, naturalmente della sanità, del rifornimento alimentare, dei servizi indispensabili e delle produzioni indispensabili, ma anche tanti altri che andavano a lavorare semplicemente perché le aziende avevano bisogno di mantenere aperte le produzioni e non volevano perdere possibilità di fare profitto anche in questa situazione. Questo ha fatto sì che ancora pochi giorni fa si stimassero almeno 9 milioni di persone che tutti i giorni andavano a lavorare, molti naturalmente accalcandosi anche nei mezzi pubblici, sui treni, sugli autobus, sulle metropolitane e in ogni caso moltiplicando i rischi e le possibilità di contagio. Ecco, io credo che questo sia stato, non a caso, uno dei terreni di scontro fondamentali nelle ultime due settimane in particolare dopo il decreto che il 9 marzo ha esteso la zona rossa, diciamo, a tutta Italia e ha messo in luce la vera struttura della nostra società. Tutti a casa, tutti a proteggerci tranne chi lavora per produrre profitto per qualcun altro. E non è un caso che proprio in queste due settimane la risposta sia arrivata in attesa per molti sotto la forma di un'ondata di scioperi che nelle ultime due settimane ha coinvolto decine e centinaia di aziende e in gran parte se non in tutto il territorio nazionale. Scioperi spontanei per la maggior parte, ovvero sia organizzati dai lavoratori stessi o dai loro delegati sindacali dentro le aziende, che hanno posto in maniera inaggirabile questo punto. Se tutti devono stare a casa, se tutti devono stare al sicuro, deve stare al sicuro anche la classe operaia, anche i lavoratori devono stare a casa. E dunque dopo lo sciopo della FIA di Pomigliano d'Alco ne abbiamo viste decine e decine di altri sia nella grande industria e anche in alcuni servizi di corrieri, nel commercio che chiedevano o la chiusura appunto delle produzioni dei servizi non essenziali oppure una forte limitazione e soprattutto un rispetto delle misure di sicurezza peraltro indicate dal governo stesso, le misure di distanziamento, di sanificazione e quant'altro. Abbiamo visto quindi scioperare a fincantieri, nella FIAT, nella metalmeccanica, nella chimica, nel commercio, nei trasporti a macchia di leopardo perché è stato un movimento che si è auto-organizzato e che ha posto in maniera forte questo punto. E così dopo 30 anni che ci si diceva che non esistono più i lavoratori, che non esiste più la classe lavoratrice, che non esiste più la classe operaia, si scopre che invece non solo esiste ma addirittura è essenziale. Il governo qui ha mostrato tutto il suo cinismo e la sua ipocrisia e ancora di più lo hanno dimostrato Confindustria e i padroni in generale. Tutti si aspettavano una chiusura quando è stato fatto il cosiddetto decreto io resto a casa, ma niente veniva fatto dal punto di vista di chiudere queste aziende, queste produzioni e questo ha rilanciato questa mobilitazione dal basso costringendo il sindacato, i dirigenti di Cigere e Cislewil finalmente a uscire da un loro stato di completo torpore e passività e in qualche modo a secondare questa mobilitazione e aprire una trattativa col governo e con Confindustria. Questa trattativa è stata molto sbandierata, ha portato a un primo accordo il 14 marzo, il cosiddetto protocollo del 14 marzo, che però ancora lasciava sostanzialmente mano libera alle imprese, era tutto un raccomandare, era tutto un auspicare, era tutta una specie di vista di buone intenzioni, ma non c'era niente o quasi niente di prescrittivo e le decisioni rimanevano alle aziende. Questa posizione si è dimostrata ancora una volta insostenibile, i lavoratori non l'hanno accettata, hanno continuato la loro mobilitazione e di fronte ai dati sempre più drammatici del contagio e delle morti nella settimana scorsa si è arrivati il 22 sabato scorso all'annuncio di Conte che avrebbero chiuso finalmente tutte le produzioni non essenziali. Credo che lì si sia visto veramente in quelle successive 48 ore qual è il vero rapporto di potere che c'è in questa società. I lavoratori e i sindacati pensavano che si fosse arrivati finalmente al cosiddetto lockdown, cioè che veramente si sarebbe fatta una lista di pochi settori essenziali in cui continuare a lavorare, su cui concentrarsi anche per poter garantire quei cambiamenti necessari a tutelare i lavoratori che tutto il resto si sarebbe fermato per almeno un paio di settimane per massimizzare e rendere più efficace la politica del contenimento, del distanziamento. E invece è iniziato un tiro alla fune sotto gli occhi di tutti, perché anche se siamo chiusi in casa tutti seguiamo nei telegiornali ancora di più in rete gli avvenimenti. Confindustria si è fatta sentire con grande cinismo ed è uscita una lista che lascia, una lista delle produzioni autorizzate a restare che lascia aperta la porta a continuare ad accalcare i lavoratori nei reparti, sulle linee, nei call center e in altri servizi a milioni, letteralmente a milioni. Tanto che perfino il segretario della CGL ha dovuto minacciare lo sciopero generale se quella lista non si fosse rivista. Io credo che la nostra critica al comportamento, alla passività dei dirigenti sindacali debba essere molto chiara. Hanno semplicemente assecondato quello che i lavoratori già stavano facendo e non hanno fatto nulla per dare un carattere organizzato, strutturato ed efficace, più efficace a questo movimento. Però certamente Landini ha detto una cosa vera, quando ha detto la paura che c'è rispetto al contagio può trasformarsi in rabbia, in furia, se non cambiate questo decreto. Il problema è che nei tre giorni successivi, sotto la minaccia di questo sciopero generale, si è continuata una trattativa dietro le quinte, sempre più nascosta, che ha prodotto alla fine una piccola modifica di quella lista. Qualche attività in più è stata messa tra quelle da chiudere, ma tuttavia ancora siamo in una situazione in cui sicuramente ci sono decine di settori e di aziende che lavorano e non dovrebbero lavorare. Qualcuno deve spiegare perché le fabbriche di armi e le industrie della difesa non possono chiudere per queste due settimane, quale arma segreta si debbono mettere a punto, che non possono mettere a punto fra due settimane, sperando che a quel punto inizia a calare la curva del contagio. Così come non si capisce perché si debbano mantenere aperti servizi che comportano un forte contatto col pubblico, come la consegna postale, molte delle consegne che fanno i corrieri non sono indispensabili, così come non si capisce perché ci siano regioni che mantengono aperti i supermercati la sera, le aperture serali, alcune addirittura quelle notturne, quando è evidente che il problema è a ridurre le occasioni di scambio e dunque il rischio di contagio sia tra i lavoratori stessi che tra i lavoratori e l'utenza e il pubblico in generale. Il cinismo di Confindustria è stato clamoroso. Il presidente di Confindustria Boccia è uscito domenica dicendo uno sciopero generale, non capiamo perché. Questo è sputare in faccia milioni di persone che capiscono benissimo il perché, perché ormai è chiaro che il contagio nella gran parte si prende nei luoghi chiusi e dunque il contagio nell'ambiente familiare, nell'ambiente lavorativo, nel trasporto pubblico e purtroppo anche negli ospedali per una strutturazione che ancora non è arrivata a quello che dovrebbe essere di separazione, di sicurezza, di gestione dei pazienti ammalati di questa malattia. Questi sono i principali luoghi di diffusione del contagio e tra questi ci sono ovviamente fabbriche e aziende, dove abbiamo visto casi drammatici e inaccettabili. Un lavoratore che muore in un call center, un lavoratore che si sente male, una guardia di un supermercato che si sente male dopo aver fatto, tutti noi l'abbiamo visto, ore e ore di turni per gestire le file e le code che si formano per contingentare l'accesso ai supermercati. O i due lavoratori delle poste che sono morti nella provincia di Bergamo l'anno scorso. Questo è il volto reale di questo sistema, di questa classe dominante e di questo padronato che grida all'emergenza ma non è disposto, grida siamo tutti sulla stessa barca ma non è disposto a rinunciare a un grammo dei suoi profitti. Ancora in questi giorni, in queste ore, riceviamo e circolano tanti resoconti di aziende che cambiano la loro ragione sociale, il loro codice a teco per poter rientrare tra quelle che possono produrre. Aziende che magari perché un 5% della loro produzione potrebbe essere legato ai settori essenziali vogliono mantenere aperti tutti i reparti. Aziende che perché le loro produzioni che fra sei mesi potrebbero servire, non sono disposte a chiudere per qualche giorno o per un paio di settimane in questo momento critico. Dunque questa mobilitazione andrà avanti, deve andare avanti e l'abdicazione dei dirigenti sindacali deve essere rovesciata attraverso una nuova spinta dal basso. È l'unico modo per ottenere più di quello che in parte si è ottenuto e che comunque è stato esclusivamente il risultato di questa mobilitazione spontanea dal basso. Credo però che si debba anche guardare alle conseguenze più in generale, non solamente a quello che accade nell'immediato attorno a noi o in questi giorni. Questa pandemia sta scatenando una crisi economica che era già in marcia, adesso la chiameranno la crisi del coronavirus, ma erano già mesi che tutti gli indici indicavano che diversi settori chiave dell'economia mondiale si stavano rallentando o addirittura fermando, compresa la Germania, la Cina e altre zone importanti. Anche nel nostro paese già c'era aria di rallentamento della produzione, calo del mercato, aziende che iniziavano ad avere problemi a annunciare cassa integrazione. Però sicuramente questo virus, questa pandemia, accelera e aggrava di molto tutto questo. È inutile fare stime su quale sarà la perdita di produzione quest'anno. si stima, cioè i dati reali sono che per esempio le richieste di sussidio di disoccupazione che si fanno ogni settimana in paesi come gli Stati Uniti o il Canada sono a livelli mai visti, accelerano a livelli mai visti da 40 anni a questa parte. Si stima una possibile 20% di disoccupazione negli Stati Uniti d'America, quando il dato attuale credo che sia non molto lontano dal 4%, almeno quello ufficiale. La stessa Cina che negli ultimi 10 anni è stato uno dei paesi che ha sostenuto la crescita economica a livello mondiale, annuncia, ipotizza, un calo che potrebbe essere, dice che la crescita scenda dal 6 al 2% o 2,5% e io penso che potrebbe essere persino meno, perché la Cina adesso sembra aver superato l'epidemia e tuttavia se il resto del mondo è in crisi profonda, gli sbocchi di mercato si chiudono anche per l'industria cinese. Ci sono settori che sono già andati a gambe all'aria, il crollo del prezzo del petrolio, per esempio e in generale dell'energia, non solamente colpisce i produttori, ma colpisce tutta una parte del sistema finanziario che prestava, che ha sottoscritto i titoli di queste aziende e soprattutto quelle americane che hanno tirato fuori il petrolio da ogni angolo del sottosuolo, anche con gravissimi costi ambientali che adesso si trovano assolutamente fuori mercato, le linee rare, il turismo, la lista è infinita. Dunque ci avviamo a gran velocità a un cataclisma economico che cade su un'economia che a livello internazionale e in Italia particolarmente non aveva ancora recuperato gli effetti della crisi del 2008, come tutti ben sappiamo. I salari, la produzione, la condizione sociale in generale non avevano recuperato i livelli pre-crisi del 2008. E dunque dobbiamo aspettarci le peggiori conseguenze sociali, oltre alle conseguenze sanitarie di questa epidemia. Chi parla di tornare alla normalità, naturalmente facendo appello a un sentimento che è diffuso, di dire teniamo duro qualche giorno, qualche settimana, forse un paio di mesi e poi potremo condurre una vita più tranquilla e tornare appunto a una situazione migliore, questo è un sentimento naturale, ma chi parla di questo nella politica, nei media, eccetera, mente sapendo di mentire. Qui non si tornerà alla normalità, qui si arriverà rapidamente a uno scontro feroce su chi dovrà pagare le conseguenze di questa crisi e di questa epidemia. E che la situazione sia drammatica dal punto di vista economico lo dimostra il fatto che scendono in campo i pezzi da 90. E molti di voi avranno visto la lettera, o avranno sentito della lettera che l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha scritto su Financial Times, è stata tradotta e ha circolato dicendo dobbiamo fare fronte a questa crisi con mezzi straordinari, dobbiamo fare debito, bisogna che le autorità, lo Stato, le banche centrali sottoscrivano tutti i debiti che non si potranno ripagare. Bisogna fare debito, fregarsene, sostanzialmente ha detto se il deficit aumenta e la stessa Unione Europea ha sospeso il patto di stabilità, cioè uno dei trattati che costringeva alle politiche di austerità e ai tagli di bilancio. E qui veramente cadono tutte le maschere e bisogna chiamare le cose con loro nome. Questi signori hanno invocato queste cosiddette regole dell'economia e non potevano essere cambiate, erano sacre, erano intoccabili, erano come dei precetti religiosi e se ne sono fregati quando queste regole significavano tagliare la sanità, tagliare la scuola, tagliare la pensione, privatizzare, saccheggiare le risorse pubbliche, vedere milioni di persone o paesi interi come la Grecia, ma non solo, cadere nella povertà, se ne sono altamente fregati. Adesso ci vengono a parlare di fare debito, di abolire le regole del patto di stabilità, di abolire le regole dell'Unione Europea, che non sono le regole dell'Unione Europea, sono le regole del capitalismo che l'Unione Europea ha semplicemente tradotto e appropriato. Perché si dicono questi? Perché sanno che ci saranno gravi perdite nei bilanci delle banche e delle grandi imprese e queste perdite devono essere socializzate, devono essere distribuite tra la popolazione, non le vogliono pagare loro e dunque questo debito che si farà sarà un debito che appena sarà finita questa emergenza inizieranno a discutere come scaricare nuovamente sulle nostre spalle, sulle spalle dei lavoratori, dei pensionati, dei servizi pubblici, dell'istruzione pubblica. Questo è quello che si preparano a fare. È giusto dire che mentre ci dicono che siamo tutti sulla stessa barca, queste sono le piccole notizie che magari passano inosservate, ma credo che sia utile ricordare. Proprio l'altro ieri, il Sole 24 Ore, che è pur sempre il giornale dei padroni, riportava che le banche italiane si apprestano a distribuire dividendi, si apprestano a distribuire utili. Unicredit distribuirà più di un miliardo di dividendo ai propri azionisti sull'anno meraviglioso 2019 e così faranno altri. Le perdite di quest'anno però le socializzeranno, non andranno a chiederle ai loro azionisti, non andranno a chiederle a chi ancora in questi giorni fa i soldi in borsa, come stiamo vedendo anche nella borsa americana, verranno a chiederle a noi. E dunque quello che questo virus ci sta mostrando, questa epidemia ci sta mostrando, è che questo sistema ha fallito. Queste classi dirigenti hanno fallito in che cosa? Nel garantire una condizione di esistenza minima e accettabile per la maggioranza della popolazione. E noi dobbiamo partire da questa consapevolezza. Non possiamo semplicemente cullarci, e penso che ormai questo sia un pensiero che è sparito, cullarci nella ricerca della risposta individuale. Già adesso il governo parla, daranno la cassa integrazione, daranno sussidi, però già adesso ci sono decine, se non centinaia di migliaia di lavoratori che saranno al di fuori di queste misere garanzie che stanno dando. Ci sono precari che stanno perdendo il posto di lavoro perché avevano contratti a termine o erano interinali o appalti o quant'altro che rimangono fuori da questi ammortizzatori sociali. Ci sono piccoli esercenti, partite IVA che lavoravano in servizio alle imprese, che rimangono senza reddito. Forse se saranno fortunati accederanno ai famosi 600 euro che il governo ha promesso. La lista è infinita, per non parlare di chi era già prima senza un lavoro. E noi dobbiamo riflettere perché dovremmo agire per questa situazione, non saremmo chiusi in casa all'infinito come siamo in questi giorni. Noi dobbiamo partire dal punto che è stato messo al centro proprio in queste settimane e cioè che cosa è essenziale e chi decide che cosa è essenziale, chi decide come vanno usate le risorse dell'economia, dell'industria, dell'economia in generale. Ecco, qui è il punto su cui noi dobbiamo riflettere, perché il fallimento di questo sistema ci carica della responsabilità di dare una risposta. Io credo che mai come oggi si dimostra che il sistema che si basa sul profitto, cioè il capitalismo, è completamente incapace di rispondere ai bisogni sociali. Adesso naturalmente si vuol far prevalere i buoni sentimenti, siamo tutti nella stessa barca. Oppure magari ci sono altri, nelle sfere diciamo dirigenti che pensano di poter colpevolizzare qualcuno. O i cittadini irresponsabili o magari qualcuno da un'altra parte del mondo. Avete visto che Trump ha parlato del virus cinese. Oppure, vabbè, c'è stato anche un governatore di una regione, credo della Puglia, che ha parlato del virus lombardo. Ma questa è una farsa, di scaricare la colpa su qualcuno che sta da un'altra parte. Ma credo che questa pandemia sta dimostrando una cosa, che i padroni rispondono tutti allo stesso modo. In tutti i paesi la risposta è sempre la stessa. L'unica patria che hanno è nel loro conto in banca, è l'unica bandiera che hanno, non è il tricolore che ci chiedono di sventolare, ma è la bandiera del profitto. Ora, io credo che milioni di persone, i lavoratori e le lavoratrici in primo luogo, ma in generale tutti quelli che nella nostra società non sono sfruttatori, stanno vedendo con i loro occhi una cosa. In primo luogo la loro centralità, quello che si fa o non si fa, quello che deve rimanere aperto o che non rimane aperto, quello che si produce o non si produce, non è vero che dipende dagli indispensabili capitalisti che organizzano la produzione, dipende da noi, dipende da chi va a lavorare tutte le mattine e produce questi beni e questi servizi. E si può e anzi si deve, di fronte alle necessità impellenti, assumere una logica che non è quella dell'impresa, dove guadagno di più metto i soldi, ma cosa è realmente importante? Quale produzione è realmente indispensabile? E questo è quello che noi chiamiamo il concetto della pianificazione dell'economia, e cioè di lottare per un sistema economico e sociale in cui il motivo della produzione non sia arricchire qualcuno che possiede un'azienda, ma soddisfare i bisogni sociali nel modo migliore possibile. Questo che poteva sembrare un discorso astratto o un residuo del socialismo del ventesimo o del diciannovesimo secolo, oggi ce lo troviamo davanti agli occhi. Se si vuole che la società non soccomba, non rimanga vittima di queste contraddizioni e di questa malattia, che peraltro è una malattia grave, ma non è certo una malattia sterminatrice, lo diventa proprio per queste contraddizioni. Ecco, se non vogliamo soccombere, dobbiamo affermare il principio che l'economia, le risorse economiche vanno gestite nell'interesse pubblico, secondo un concetto di pianificazione, di ricerca dei bisogni sociali di loro soddisfazione e non secondo l'interesse privato che è spinto dal profitto. E questo è possibile, perché così come milioni di lavoratori, non solo in Italia, si stanno attivando per decidere come lavorare, quanto lavorare, dove lavorare per difendere la propria salute, domani potranno fare lo stesso e molto di più in maniera organizzata, in maniera collettiva e anche su scala internazionale per decidere quali produzioni sono necessarie, come vanno prodotte, come si può gestire questa enorme ricchezza che la nostra società pur tuttavia ha nell'interesse della maggioranza. E credo che anche l'altro grande concetto su cui in questi giorni tutti siamo continuamente sollecitati, cioè quello dell'emergenza. Di fronte all'emergenza ci vogliono misure di emergenza. Sì. E queste misure di emergenza cosa sono? Che quando dobbiamo vedere cosa è essenziale e cosa non è essenziale, la prima cosa che dobbiamo vedere è chi è essenziale, il reddito di chi, il profitto di chi, l'interesse di chi è essenziale. E questo pone le basi su cui noi dovremmo condurre una battaglia e quando dico noi, dico non solo il nostro movimento, ma penso che saremo parte di qualcosa di molto più grande, come è già stato in questi giorni, per affermare che questo sistema economico deve essere superato, deve essere rovesciato e deve essere sostituito di qualcosa che risponda alle necessità della società e che noi chiamiamo il socialismo. In questo senso credo che questa esperienza appunto terribile che si sta vivendo a livello internazionale in tutto il mondo è un salto nella coscienza. Sta facendo venire fuori cose che erano già presenti, perché era convinzione diffusa. Anche dopo la crisi del 2008 si diceva che questa crisi avrà insegnato che bisogna limitare gli eccessi della finanza, gli eccessi della speculazione, eppure negli ultimi 12 anni abbiamo visto che le disuguaglianze sociali sono diventate sempre più profondi, i ricchi sono diventati sempre più ricchi, i poveri sono diventati sempre più poveri, le condizioni della massa della popolazione sono peggiorate in quasi tutti i paesi. Qui non ci sarà il ripensamento perché come un peccatore pentito, diciamo, dopo la pestilenza la classe dominante arriva a più miti consigli. No, qui ci sarà uno scontro feroce, come ho già detto prima, su chi pagherà le conseguenze, chi pagherà il carico economico di questa crisi, chi pagherà il carico economico di questa crisi sanitaria, di questa crisi economica e di questa crisi sociale. E noi dobbiamo essere pronti, innanzitutto avendo le idee chiare per capire che si apre questa grande battaglia, che è la battaglia per il futuro della gran parte della popolazione e dunque per il futuro dell'umanità. Questo sistema è arrivato ai suoi limiti e li ha lungamente da tempo sorpassati ed è bastato, tra virgolette, un avvenimento forse casuale, forse inaspettato in quanto tale, ma che era indispensabile, che era inevitabile che arrivasse in un sistema così sbilanciato e così disumano a mostrarne tutte le contraddizioni, a mostrarne l'ipocrisia, a mostrarne in ultima analisi il fallimento generale. E dunque da questa epidemia noi non dobbiamo pensare che si esce con il ritorno alla normalità o solamente con i buoni sentimenti che tuttavia esistono, perché la gran parte della popolazione capisce che si deve aiutare, che deve solidarizzare, che deve stare unita, ma si deve uscire con la consapevolezza che la grande maggioranza deve infine imporre i propri interessi su quelli di una ristrettissima minoranza che ci ha condannato allo sfruttamento, alla diseguaglianza, alla devastazione ambientale che oggi mette a rischio le nostre stesse vite. E questo sarà il mondo in cui la generazione attuale dovrà risolvere i problemi dell'umanità.